La Torre, ristorante accogliente e di grande qualità nel centro storico di Monselice. All'interno di un ambiente elegante ed ospitale, per un totale di 60 coperti, offre piatti che privilegiano prodotti del territorio. Nel periodo primaverile asparagi, erbette spontanee e piselli. Per passare al periodo autunnale con porcini, ovuli e tartufo bianco. Buona la scelta del pesce, con arrivi giornalieri da chioggia. Per gli amanti della carne, ottimi tagli cotti alla brace. Particolare cura nella realizzazione di pasta fresca e dolci fatti in casa.